questa storia delle pagnotte mi sta divertendo pagnotta realizzata oggi signori è un impasto al 97 per cento di idratazione quindi su un chilo di farina abbiamo 970 millilitri di acqua con un 50 per cento di farina integrale stamattina dopo la maturazione in frigo l'abbiamo messo su carta forno incisione, qualche disegnino perché ero espirato e si cuoce dentro la pentola di ghisa dopo 40 minuti in forno questo è il risultato una piuma, non avete idea quanto fosse leggero